Aldino Manuzzi di Cesena contro la Lettonia riparte il cammino degli azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo 2025. Subito un pericolo in avvio, dopo 25 secondi Melchis punta Zanotti e trova Vapne, bravo De Plansch a respingere. Risposta Italia al nono, Ndur prova da fuori, il tiro non inquadra la porta. Al 26esimo Miretti da corner, cross sul primo palo, si avventa Prati che di testa scheggia il palo sfiorando il gol del vantaggio. Possesso palla azzurro che si concretizza al 32esimo, Miretti allarga sulla destra per Zanotti che serve a centro aria Casadei che in girata al volo trova il gol del vantaggio. Primo gol in under 21 per il giocatore del Chelsea e azzurrini che sbloccano il match. Due minuti più tardi è il turno di Gnonto che si accentra e calcia, Bex attento respinge il tiro dell'attaccante. Nei minuti finali nuova chance per l'Italia, errore del portiere Letton e dopo la pressione di Gnonto Fabian calcia alto da buona posizione. La ripresa si apre con il numero da urlo di Miretti che va ad un passo da raddoppio. Tunnel più dribbling nello stretto, il tiro immediato viene deviato da Bex sul palo. Al minuto numero 68 ci prova ancora Gnonto che di sinistro dal limite dell'aria calcia di potenza la palla esce di un soffio alla destra del portiere. Raddoppio che arriva finalmente al 79esimo, ennesimo cross di Ruggeri per Fabian che dopo un rimpallo si ritrova la palla sul sinistro. Tiro imparabile e azzurrini avanti di due reti. Prosegue il magic moment del centrocampista del Bologna al secondo gol in under 21. 2-0 il risultato finale. Italia che sale a 14 punti e resta in testa al girone a più uno sull'Irlanda. Appuntamento martedì a Ferrara per l'impegno contro la Turchia.